Siamo molto lieti di essere qui questa sera per il decimo dialogo nell'ambito del ciclo la scienza regola d'arte che ormai da un po' di tempo la Fondazione IPSA e il Masi stanno organizzando insieme. Abbiamo capito che è una formula molto molto buona che ha funzionato molto bene. Le dieci puntate sono che ci sono state molto diverse tra di loro e forse questa è la bella cosa perché è una formula abbastanza aperta che permetta delle sorprese e questo è per gli scienziati sia per gli artisti è una cosa forse al centro anche del loro lavoro. Il tema di questa serata è molto molto promettente perché forse anche è un riassunto un po' del contenuto, del tema, della problematica che in fondo a fine conti riunisce artisti e scienziati e quello è la ricerca dell'ignoto.